11 61 17, questo è il numero in arrivo anche in Toscana per chiamare la Guardia Medica, ossia il servizio di continuità assistenziale che sostituisce il medico di famiglia nei giorni feriali dalle 20 alle 8, nel fine settimana dalle 8 del sabato alle 8 del lunedì e nelle festività infrasettimanali dalle 10 del prefestivo alle 8 del mattino feriale seguente. Il numero europeo è gratuito e raggiungibile da fisso o cellulare, sarà attivo da settembre, si parte dal 16 per la città metropolitana di Firenze e le province di Perato e Pistoia, dal 21 ottobre entrerà poi in funzione ad Arezzo, Grossetto e Siena per poi essere attivo dal 18 novembre nelle province di Livorno, Lucca, Massacarrare e Pisa. A regime saranno quasi 200 le linee attive in contemporanea a cui risponderanno operatori competenti e medici qualificati. Gli operatori risponderanno alle richieste di bisogni non urgenti dispensando consigli ed assistenza. Nel caso in cui invece si ravvisi una situazione di emergenza, i cittadini dovranno sempre solo rivolgersi al 112, ovvero il numero unico per le emergenze. L'1161-17 non parlerà solo italiano, dei traduttori saranno in grado di interloquire e fare da ponte in 20 lingue diverse. Il sistema prevede inoltre una funzione di tutela dei medici di continuità assistenziale. In caso di aggressione o di fronte a situazioni di rischio potranno attivare sul dispositivo di cui saranno dotati per la gestione delle informazioni dei pazienti, un segnale d'emergenza che arriverà direttamente alla centrale operativa per chiedere l'intervento agli organi preposti alla pubblica sicurezza, un servizio attivo ad oggi solo in Toscana. Una volta a regime il servizio sarà attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7.